Un dodicenne, David, cade in una buca attraversando un bosco e quando ne esce, stordito, scopre che sono passati otto anni. Internato in osservazione in un laboratorio della NASA, sale su una navicella spaziale condotta da un robot che ha bisogno delle mappe spaziali codificate nel suo cervello per tornare nel suo lontano pianeta. Dopo aver scorazzato in lungo e in largo per i cieli, finalmente viene ricondotto a casa.